dove conservare in sicurezza le tue monete lo vedremo oggi amici di lumismatica in questo video mi raccomando rimanete fino alla fine perché sarà un video molto tecnico ma molto importante perché la sicurezza dei nostri pezzi è la priorità nel momento in cui abbiamo acquistato monete siamo stati lì le abbiamo scelte con oculatezza siamo andati proprio nel mercatino a trovare il pezzo migliore per la nostra collezione vederselo portare via da qualche furfantello che arriva a casa e ce lo ruba questo sarebbe veramente il peggio una tragedia oggi vedremo dove conservare la vostra collezione in sicurezza vedremo dove mettere tutte le vostre monete dove conservarle al meglio partiamo subito con il video per vedere tutti i contenuti esclusivi di lumismatica plus clicca il bottone abbonati qui sotto fallo come avrete visto qui ho veramente il tavolo pieno di monete questo rappresenta quasi il 60 per cento della mia collezione la parte più di valore nella mia collezione ed ora vi chiederete ma perché ce l'hai qui tutta distesa sul tavolo la domanda è semplice adesso sto valutando un attimo il valore economico di tutta la mia collezione sto fotografando ogni singola moneta per poi riportarla all'interno della cassetta di sicurezza perché bene sì ho aperto una cassetta di sicurezza presso una banca delle mie zone mi sono segnato veramente tantissime cose guardate qua questo è tutto il materiale che andremo a trattare all'interno del video e ci sono veramente tantissimi ma tantissimi spunti interessanti che derivano da mie ricerche personali e anche un po dalla mia esperienza nel campo della numismatica perché è importante come dicevo all'inizio andare a scegliere i migliori pezzi pezzi che siano bene all'interno della nostra collezione che ci piacciono nel momento in cui andiamo ad acquistare per dire monete del genere ok monete che comunque sono molto belle molto belle e vedersene portar via da qualche malintenzionato sarebbe un po come perdere una parte di sé perché alla fine il collezionista un po si rispecchia nelle proprie monete quindi non c'è solo il valore economico ma c'è anche un valore proprio emotivo perché pezzi unici che abbiamo in collezione sono impagabili pezzi del genere difficilmente andrei a venderli perché comunque è un pezzo che sono stato lì ho scelto l'ho trovato un pezzo unico che nessuno ha possiedo solo io e allora dobbiamo vedere bene come conservarli in sicurezza dove le mettiamo queste monete ci sono tre possibili soluzioni partiamo subito la prima soluzione è naturalmente la più semplice che viene attuata dalla maggior parte dei collezionisti ed è quella di tenere la propria collezione in casa senza niente così la teniamo in casa la mettiamo un po sui nostri scaffali sta lì è una comunque collezione libera una collezione che abbiamo sempre a disposizione infatti il vantaggio è proprio questo il primo vantaggio di avere le monete a casa è averle sempre sotto mano aver comunque la possibilità di studiare quando si vuole nel momento in cui si preferisce i propri pezzi prenderli in mano vedere i rilievi proprio accudire un po alle proprie monete ma ci sono tantissimi svantaggi nel tenere le proprie monete a casa infatti il primo svantaggio è un qualcosa che ho vissuto personalmente ed è quasi un senso di paura nel lasciare a casa da sole le proprie monete nel momento in cui usciamo per dire non c'è nessuna casa abbiamo tutta la nostra collezione qui custodita all'interno della nostra abitazione e c'è un po quel senso di paura nel lasciare tutto così in balia non lo so del del destino e poi il problema appunto secondario è anche che ci si deve dotare di sistemi di sicurezza quindi allarmi telecamere e tutta una serie appunto di misure che permettano di darci un po più di tranquillità questo importante cioè quando usciamo di casa dobbiamo comunque rimanere in tranquillità e poi qual è l'altro problema l'altro problema appunto oltre a tutte queste misure di scurezza allarmi sbarra le finestre è l'alto rischio di furto in casa quindi valutate un attimo magari voi vivete non lo so in una zona sperduta non esistono persone intorno a voi allora vi dico non è che abbia molto senso andare a preoccuparsi di eventuali ladri se vivete immersi nella natura in montagna che ne so non avete vicini la città più vicina a 10 chilometri allora quello è l'ultimo pensiero e poi il problema principale appunto oltre al rischio di furto è che nel momento in cui dovesse malaguratamente succedere questo fatto quindi dovessero rubarvi tutte le monete voi non potrete fare nulla voi sarete completamente persi la vostra collezione sarà andata potrete provare a recuperarla in qualche modo ma non ci sarà altro da fare naturalmente tutte le soluzioni che sto per andare a dirvi riguardano collezioni di un certo valore perché parliamoci chiaramente nel momento in cui possediamo monete che tutte messe insieme valgono non lo so 100 23 400 ma anche 1000 euro non so quanto valga la pena attuare le altre due soluzioni che andrò a dirvi nel momento in cui invece raggiungiamo una cifra importante importante per noi oppure abbiamo pezzi a cui teniamo veramente tantissimo allora ha senso andare a tutelarsi nei due modi che vi andrò a dire adesso il secondo modo per poter tutelare al meglio la propria collezione è quello di andare a coprirla con un'assicurazione nella maggior parte dei casi nel momento in cui si vive in un'abitazione di proprietà esiste già un'assicurazione l'assicurazione sulla casa l'assicurazione sulla casa copre da una serie di eventuali danni non so furto incendio dalla casa tutte queste cose qui e va però a coprire appunto nei casi di furto anche una certa somma una certa somma che viene prestabilita all'interno del contratto è possibile andare anche ad includere all'interno di questa assicurazione a estenderla come dire su tutta la collezione di monete però qual è il problema che bisogna andare ad indicare un massimale comunque andare a dichiarare tutte le proprie monete quindi quanto valgono quali monete andiamo ad assicurare fare delle foto eccetera eccetera in questo caso ad esempio potreste portare direttamente da un perito numismatico che svolge anche operazioni di stima delle monete la vostra collezione ve la fate stimare vi fate fare una lista completa di tutti i pezzi che ci sono all'interno della collezione e poi lo date e lo passate alla vostra assicurazione e stipulate questo contratto naturalmente il discorso vale quello di prima se avete 10 euro 100 euro di collezione è un qualcosa che non vale la pena non vale la pena proprio livello di costi perché andiamo a vedere bene i vantaggi e gli svantaggi di questa seconda soluzione il principale vantaggio è la possibilità di rimborso in caso di furto quindi certamente non ci ridaranno la nostra collezione ma avremo comunque dei soldi in caso di furto noi pagheremo un premio ok e in cambio di questo premio poi avremo un'assicurazione che andrà a coprire un certo valore in caso di furto ci verrà restituito il valore pari a quello della collezione anche lì poi ci sono casi in cui l'assicurazione non paga però lì è tutta una questione contrattuale che dovrete andare voi a monte nel momento in cui andrete a stipulare un contratto di assicurazione verificare bene anche con la presenza non so di un legale se serve e poi l'altro vantaggio è il sentirsi più sicuri nel momento in cui si esce di casa e si hanno comunque le monete in casa che però sono assicurate c'è una componente di sicurezza in più rispetto a lasciarle a casa senza un'assicurazione quindi almeno in caso di furto noi ci sentiamo più tranquilli fino a un certo punto perché poi comunque come ho detto non c'è solo il valore economico nel momento in cui ci dovessero andare a rimborsare tutto il valore della collezione noi comunque avremmo perso i nostri amati tondelli altri vantaggi sono sempre quello di avere sotto mano le monete la possibilità di studiare meglio i pezzi quindi tutti i vantaggi del punto 1 quindi del tenere a casa le monete senza nulla senza assicurazioni senza niente però ci sono anche degli svantaggi nel accendere un'assicurazione il primo è che l'assicurazione ha un costo un costo che varia in base a quanto vale la nostra collezione naturalmente se andrà a pagare un premio in base a se vale 10.000 100.000 un milione due milioni andremo a pagare una somma di denaro per assicurare la nostra collezione il secondo svantaggio è che devo andare a dichiarare il valore dei pezzi e i pezzi da assicurare e questo in un'ottica di dinamicità della collezione quindi di aggiunta di nuovi pezzi è un problema perché dovremo ogni volta andare a dichiarare sempre nuovi pezzi quindi rifare la stima di tutta la nostra collezione nel momento in cui andremo a superare non so il massimale dichiarato se ci viene dato un massimale di 20.000 euro nel momento in cui andremo a superarli dovremo andare a rifare tutta la procedura di dichiarare il valore monete andare non so da un perito farsi stimare la collezione e quindi questo questo è il problema cioè di una collezione dinamica se invece voi dite io ho la mia collezione non voglio più aggiungere pezzi siete a cavallo non c'è nessunissimo problema un altro problema è uno svantaggio che il premio da pagare all'assicurazione varia in base poi alle misure di sicurezza che ci sono una casa nostra naturalmente se abbiamo degli infissi che sono vecchi di cent'anni che potrebbe entrare uno gli tira un calcio ed entra dentro pagheremo un prezzo maggiore di avere non so una casa con sbarra le finestre non so avere tutto un sistema di allarme un fossato con i coccodrilli e con i cani cioè capite bene che questo è un punto fondamentale che poi l'assicurazione andrà a valutare perché l'assicurazione deve fare business e in base al rischio percepito che ha della vostra abitazione andrà a farvi pagare di più potreste sempre optare come nella prima soluzione di mettere altre misure di sicurezza aggiuntive non so tenere le proprie monete all'interno di una cassaforte gigantesca in casa oppure mettere sempre lì telecamere tutte queste cose qui però il problema rimane sempre lo stesso dovesse entrarvi qualcuno in casa dovessero puntarvi una pistola per dirvi adesso andate svuotate la cassaforte quello sarebbe un bel problema e vi dico in queste tre soluzioni in ogni soluzione c'è una componente di rischio una componente di rischio però diversa l'una dall'altra però il rischio c'è sempre che succeda qualcosa c'è sempre perché la terza e ultima possibilità che ho individuato è quella di mettere le monete in cassetta di sicurezza questa è una soluzione che viene utilizzata soprattutto ad esempio da commercianti ho parlato con vari numismatici loro possiedono cassette di sicurezza ed allo stesso tempo hanno anche assicurazioni su le proprie collezioni nel momento in cui tengono monete per dire in negozio oltre che avere casseforti tutte queste quindi loro vanno a fare un mix di queste tre soluzioni cosa che potreste fare anche voi nel momento in cui possedete una collezione notevole potete valutare un mix delle tre soluzioni quali sono i vantaggi del tenere le monete in cassetta di sicurezza naturalmente un maggior senso di sicurezza percepita perché comunque se so che le mie monete sono in banca non sono in casa e quando esco di casa non devo preoccuparmi di star lì avere il pensiero oddio potrebbe entrarmi qualcuno in casa e rubarmi le monete quella cosa manca quindi non c'è più questo problema poi un altro vantaggio sicuramente a cui tanti non pensano è la possibilità di diversificare nel momento in cui possiedo una collezione che vale non lo so 300 mila euro posso anche dire va bene ho paura di lasciare tutto in una singola banca in una cassetta di sicurezza e basta allora mi apro tre cassette di sicurezza diverse comunque ho una collezione notevole andrò a pagare di più però se ho due tre quattrocentomila euro di collezione non devo starli a preoccuparmene più di tanto di pagare quel poco all'anno quelli sono problemi secondari e appunto questo andrebbe ad abbattere tantissimo il rischio perché nel momento in cui io vado a diversificare un concetto molto importante anche nel mondo degli investimenti vado a ridurre il rischio che sto sostenendo perché naturalmente nel caso dovessero svaliggiare una banca vabbè ma andare a svaliggiare tre banche diverse capite bene che si potrebbe accadere ma è molto più difficile c'è una probabilità inferiore rispetto a che vadano a svaliggiare una singola banca addirittura se volete essere ancora proprio più paranoici potete dire prendo una cassetta di sicurezza nella mia città una all'estero una non lo so giù in puglia e così siete siete a posto basta così non ci sono più problemi anche perché massima diversificazione poi questi erano un po i vantaggi gli svantaggi della cassetta di sicurezza quali sono il primo e grandissimo svantaggio della cassetta di sicurezza è il non avere a disposizione le proprie monete in questo caso io nel momento in cui voglio vedere un pezzo ho la voglia di prenderlo in mano di studiarlo non posso farlo nell'immediato perché le monete non le ho tra le mani non posso allungare la mano prendere il raccoglitore e vedere le mie monete e poi c'è anche il discorso della separazione separarsi dalla propria collezione questo è un dramma come avrete visto nello short di ieri e nella piccola clip che vi ho lasciato all'inizio questo è il peggior dramma per un collezionista vedersi portar via la propria collezione è un qualcosa di fuori di testa ti lascia un vuoto dentro un altro grandissimo svantaggio è il costo come l'assicurazione anche la cassetta di sicurezza ha un costo io posso dirvi con tranquillità quanto pago per la mia cassetta di sicurezza pago 93 euro all'anno è alta 12 centimetri larga circa 23 centimetri e lunga più di una quarantina di centimetri vi posso dire con certezza che all'interno della mia cassetta ci sta senza nessunissimo problema un vassoio del genere un vassoio del genere ci sta senza problemi al momento gliene ho inseriti sei e c'è ancora spazio in altezza quindi magari andrò a 10 e vedremo un po il da farsi vedremo un po cosa riuscirò ad inserire all'interno della cassetta e i principali svantaggi quindi di questa ultima soluzione sono principalmente questi cioè noi non potremo andare a vedere quando vogliamo le monete sì potremo farlo ma nei giorni in cui la banca sarà aperta sabato e domenica no e allora qual è il mio consiglio il mio consiglio è questo e ve l'ho già detto all'interno del video se avete una collezione che comunque non ha un valore economico notevole non c'è problema tenetela in casa al massimo non lo so rientrerà nell'assicurazione che già c'è sulla casa in caso di furto e su lì non c'è problema se avete già una collezione un po più grande allora valutate bene la terza opzione della cassetta di sicurezza e come sopperire a questa mancanza proprio fisica delle monete cioè le monete noi non le abbiamo a casa c'è una un compromesso un compromesso che si può fare e secondo me il miglior compromesso è questo scegliete una banca vicina a casa vostra quindi che sia in zona non che sia 50 chilometri di distanza e poi nel momento in cui volete vedere le vostre monete sapete che non so il weekend sarete in casa e non ci saranno problemi perché ci sarete voi sarete lì tutto il weekend allora andate ritirate tutte le monete e poi le riporterete il lunedì oppure per dire una settimana sapete di essere a casa per le vacanze andate ritirate tutto e poi alla fine delle vacanze riportate le vostre monete almeno potrete averle tra le mani potrete guardarle potrete ammirarle e però allo stesso tempo poi avrete un luogo sicuro dove riportarle e tenerle lì spero che questo video abbastanza tecnico abbastanza comunque articolato perché sono concetti non semplici da capire soprattutto c'è molta confusione perché nel momento in cui io vado e chiedo come posso stipulare un'assicurazione sulla mia collezione di monete allora poi non è che ci sia veramente una guida che ti spieghi questa cosa e non so i costi i costi poi appunto variano da compagnia a compagnia da banca a banca anche da cassetta di sicurezza la cassetta di sicurezza è veramente una giungla spero che però questo contenuto vi sia piaciuto vi sia tornato utile se avete altre domande comunque altri quesiti fateli qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questo lascereste le vostre monete a casa senza nessuna protezione le mettereste con un'assicurazione le terresti a casa o le vorreste mettere dentro una cassetta di sicurezza fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti